Buongiorno a tutti, cominciamo il consiglio stasera e intanto vogliamo fare l'appello. Saputelli Renzo, di Sabatino Umberto, di Piccari Carlo Luigi, di Basilio Davide, di Massimo Antonio Claudio, di Antonis Marcello, di Pagliaroli Sala, di Martino Giuditta, di Capo di Casa Stefano, di Vico Marco. Allora, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Salute. 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 Approvazione della seconda precedente, penso che abbiamo fatto come le altre volte, tutti i dati, possiamo non leggere tutte quante. Salute. 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 no no il secondo il primo la convinzione no no il terzo il terzo la convinzione il secondo l'interpellanza l'interpellanza la firma del consigliere Giudice Di Martino se ci vuole va bene l'interpellanza di Martino prego Giudice io non ho il testo se lo ricordo grazie allora noi a parte l'ho fatto io ma è condiviso da tutto il gruppo chiedevamo notizie soprattutto sull'appalto dei lavori e per quanto riguarda la chiusura del centro storico perché diciamo che ci sono state tante lamentele che erano arrivate anche a noi soprattutto per la lungaggine dei lavori e per i disagi oltre alle attività commerciali esistenti anche dei residenti e c'era stato anche segnalato che le strade che erano state chiuse che poi abbiamo verificato anche di persona perché effettivamente non si poteva entrare non garantivano l'accesso ai mezzi pubblici scusate i mezzi di soccorso io oltre ad adesso volevo anche ampliare un pochettino il concetto perché il sindaco mi ha risposto mi ha risposto a cui giustamente dicendo l'appalto le cose che ci sono state il problema è che i lavori in realtà sono partiti il 6 giugno e quindi la chiusura è stata del centro storico diciamo anche dal 6 giugno fino a settembre oggi è 28 diciamo non è che era chiuso era bastante parte del centro storico volevo premettere che è un importo diciamo oggi veramente piccolo dicendo 3 mila euro che è stato fatto da quello che mi sento adesso chiederemo anche gli atti in affidamento diretto primo chiedo pure come mai non è stato dato a una ditta locale e secondo quando si fanno lavori soprattutto i centri storici io ma a termine sto vedendo tanti uno proprio di fronte all'ufficio all'impresa si dice giustamente anche se i tempi tecnici sono 120 giorni e sappiamo noi che stiamo all'interno tecnici anche il sindaco che è stato un tecnico oltre ad essere un tecnico adesso è stato anche il tecnico del comune di Bicenti che si chiama l'impresa si fa venire il comune e si dice ah di godere il problema non posso chiudere 120 giorni in centro storico ma mi dovete dare i lavori in giustamente anche vedendo quali sono le categorie di lavoro e la tempistica in 20 giorni lavorativi 40 giorni insomma cercare di ridurre al minimo il disagio per la comunità e la cittadinanza io ad oggi vedo che ancora diciamo ho letto una cosa ci abbiamo mantenuto le cose rispettate certo i 120 giorni sono stati rispettati chi lo mette in dubbio ma 120 giorni per un lavoro di 100.000 euro mi sembrano eccessivi soprattutto diciamo facendo una cosa sul centro storico che ha subito danni gravissimi soprattutto le attività commerciali perché non passandoci più nessuno qualcuno ho letto anche ha messo vendesi quindi chiedevamo al sindaco quali erano state prese quali provvedimenti adottati per evitare questi disagi ecco i fatti noi nell'interpellanza chiedevamo quali tempistiche per i lavori di rifacimento e di operazione dal momento che gli stessi devono essere ultimati entro il 29.7 e il 2023 questo era scritto nel cartello poi mi è stato spiegato e la giustificazione in un periodo così lungo per effettuare lavori di modesta entità trattandosi un centro storico con tutte le problematiche adesso connesse quali provvedimenti adottati e tende adottare per limitare i danni economici subiti dalle attività operanti nel centro storico quali ordinanze sono state emesse per la chiusura al traffico veicolare e pedonale del centro storico oggetto dei lavori di rifacimento e orientazione relativa a segnaletica apposta quale piano di emergenza è stato adottato per garantire l'accesso ai mezzi di soccorso nella porzione di centro storico oggetto di lavori di rifacimento della pavimentazione il sindaco adesso risponderà a lui volendo se non lo leggo io non è un problema ma dal momento che risponde lui gradirei ma prima del sindaco posso dire qualcosa a io certo allora sinceramente e anche io ho avuto dei problemi io sapete torno tre o quattro volte alla settimana da Silvi ultimamente invece di tre o quattro volte sono tornato una volta perché tutti quanti e c'è rovinato e c'è ma insomma capiamoci è un paese così piccolo dove se si chiude il centro storico a piedi dal parcheggio di mitropi si può andare in tre minuti cosa è tutta questa storia io vi porto un esempio a marzo sono stato a Monaco all'ultima fiera del turismo bene da tre anni la stazione di Monaco è chiusa e sapete cos'è per un chilometro da gente nessuno può andarci e ci sono migliaia di negozi e compagni per farlo io dico sì certo è successo quello che è successo ci dispiace per questo però cosa ci serve se uno parcheggia la macchina lì dove sono i parcheggi e va a piedi per qualche giorno non succede niente quindi non allarghiamo tutta questa cosa io sono invece contento e contentissimo che è la cosa che è stata risolta adesso sento pure quelli che dicono ma do all'asfalto lo dovete fare il verde lo dovete fare il rosso la cosa è fatta io ho una storia del paese io sono innamorato del mio paese e c'è una storia e mi ricordo com'era io penso pure Giulia che no noi ci conosciamo più tempo sa pure com'era prima e come in qualche modo l'abbiamo messo a posto adesso quindi per favore non fatemi sentire io sono anche più anziato del consiglio qui non fatemi sentire queste cose il paese è bello vi senti lo amiamo lo amiamo tutti prego allora puoi rispondere queste considerazioni sono lasciano allora io voglio scandire i tempi di questa storia di questo progetto l'approvazione del progetto è venuto con delibale di giunta numero 66 del 21-8 2020 2020 non c'eravamo allegato al progetto c'era il cronoprogramma che prevedeva l'esecuzione dei lavori di 120 giorni progetto 2020 cronoprogramma 120 giorni per la realizzazione l'affidamento dei lavori è avvenuto a febbraio 2023 e la consegna degli stessi il 30 marzo il 3-4 cioè il 3 aprile con specifica motivazione perché mancava il parere della sovrintendenza i lavori i lavori sono stati sospesi successivamente c'è stata una variante dei lavori l'autorizzazione su conleta di tutte le autorizzazioni variante approvazione approvazione sovrintendenza verbale di ripresa dei lavori teniamo conto che da marzo aprile maggio ha piovuto quasi tutti i giorni ma la stessa non era chiuso il centro storico in questo periodo infatti dal 6 giugno che io ho detto il 30 settembre sono 4 mesi sono 120 giorni ho detto il cronoprogramma prevedeva 4 mesi 120 giorni sono 4 mesi d'accordo? si si 4 mesi dopodiché c'è il seguito della storia la consegna e tutto il resto la scadenza 29.9 si domani 29 e domani allora perché non sono stati dati a una ditta locale? non lo so non lo faccio io agli appalti non compreste a me credo che l'ufficio tecnico abbia valutato imprese che hanno che hanno dimestichezza con certi tipi di lavori si chiama Montesilvano Corfido quella ditta è specializzata per fare quei lavori di pavimentazione ora perché non lo so evidentemente è stata fatta da qualche valutazione dell'ufficio tecnico chiedevi l'ufficio tecnico perfetto per quanto riguarda il resto della storia credo se vado a ridurso il geometra Luciano Scocchia che ne è il direttore dei lavori mi diceva il progetto benché approvato l'ufficio tecnico l'ho fatto io ci può stare e si è raccomandato perché per favore diceva l'ho fatto ormai la progettazione non la possa fare più se mi date l'incarico della direzione Coria scusami Renzo penso che stai andando perché questa è una casetuta pubblica in cui si fanno nomi in cui si dicono queste cose mi sembra un pochettino eccessivo penso che credo che non lo è beh il segretario viene al segretario tutti i nomi non si possono fare non lo è è il direttore dei lavori sì però quello che hai detto dopo il direttore dei lavori lo sappiamo perché sta scritto sugli atti esatto il contorno ma guarda tutti gli uffici tecnici si affidano a tecnici che magari lo sappiamo ma non è questa la sede anche senza contenso non stiamo rubando non ha rubato Tuna non ha rubato il comune non stiamo dicendo di rubare non rubare ci può stare ci può stare comunque sì tralasciamo tutto questo la direzione dei lavori ce l'ha avuto il geometro cosa potevamo fare? abbiamo provato a così forzare attraverso la direzione dei lavori perché le opere si facessero prima possibile il prima possibile è stato quello che vedete purtroppo è andata così è andata ma perché da quello parlandoci chiaro quello che so io due operai che arrivano in nove e mezzo andavano a luna in nove e mezzo questo quello che hanno riferito comunque più di un cittadino io non c'era non posso dirlo è stato riferito sono solo due operai però però si poteva fare forse qualcosa e non si è riusciti a fare diciamo così non si è riusciti a fare va bene perché l'impresa diceva ciò che ho fatto in 120 giorni esatto se io non ti riconsegno il lavoro in 220 giorni ne applichi le penali ne applichi le penali se non è così che posso fare quello che ho notato di questa ditta che lavora tutto sommato lavora bene in riferimento invece ai lavori che esurano per esempio noi in questa situazione abbiamo preferito interrare un tubo per tutta la longitudina per tutto il percorso longitudinale overugato mettere i cavi della corrente in questo caso per evitare di rivedere tutti quei fili eccetera questi tipi di lavori ho visto che loro insomma non sono non sono maestri insomma hanno fatto difficoltà ok sì hanno avuto difficoltà però di qui a dire che abbiamo creato chissà quali disservizi o quali danni alle nostre attività tutte queste proteste le proteste si riducono si contano sulle dita di una mano per quello che perché le proteste se sono arrivate a te sono arrivate pure a me io devo chiudere io là mi ha mandato un messaggio Claudio dice guarda il centro dell'Aquila è stata chiusa la piazza non so quale è stata chiusa cinque mesi non ha protestato nessuno nel caso nostro ho capito è certo che quando succedono queste cose se la cittadinanza si lamenta qualcuno raccoglie qualcun altro c'è in zuppa il pane è così è la normalità però come faccio a dire la vita e l'antempiente lo posso dire questo? no tutto qua quello che mi sento di dire è questo siamo arrivati alla fine tutto sommato abbiamo rispettato i tempi non li abbiamo rispettati però dicendo che di giorni ci siamo tutto qua ma diciamo posso? prego ma diciamolo fino in fondo non è che si tratta che abbiamo rispettato i tempi è che praticamente sappiamo benissimo che tra pochi giorni sarà la festa dell'uva stasera inizia è un appuntamento importantissimo per il nostro paese è una cosa sentitissima da parte di tutti e quindi siamo sforzati di fare quello che potevamo fare è stato fatto io per esempio dico sempre vediamo sempre la cosa positiva della cosa e dico agli altri ma ho fatto una sezietà ma è che un minimo sta che un minimo sta che un minimo sta che un minimo ecco faccio l'abbiamo fatto abbiamo realizzato l'abbiamo fatto per tutti quanti per la festa per i bisendi e quindi ci voleva questo minimo decoro per il paese centro storico anche per te un finanziamento ottenuto il progetto è firmato a nome mio guarda questa è una narrazione sbagliata quando arrivo sto spettando la medaglia questa è una narrazione sbagliata scusa sindaco dopo mi taccio questa è una narrazione sbagliata perché quando si dice ma quelle le solde erano i nostri le soldi di qua le soldi di là le soldi le trovate ho capito ma voi non siete stati in grado di spendere i soldi te l'ha detto il sindaco il 2020 risale il progetto c'era un cronoprogramma voi l'amministrazione passata non ha saputo spendere investire ok quindi siccome adesso ci sta un'amministrazione che sa spendere non sa spendere nel bene nel male c'è un'amministrazione perché abbiamo avuto pure un commissario appunto c'è stata pure io e quindi diciamo pure c'è stata la gestione commissariale diciamola tutta ci sta la favolta a chi è più grave allora volevo dire Alberto no perché quale che dice nella salute spend non devo difendere nessuno facendo il progetto siamo arrivati i cento quarantesimi furono finanziati i primi cento nell'annualità 2020 nell'annualità 2021 quando c'era la commissaria ci fu lo scorrimento della graduatoria e venne finanziati pure il comune di piselli quindi non è che non hanno perché il finanziamento è arrivato nel 2021 2022 quindi se i soldi arrivano nel 2021 e nel 2022 li spendi giustamente chi sta in quel momento a registrare non sto dicendo dire che non l'altro ha detto una notizia falsa comunque sì non è vero anche perché dietro un finanziamento ci sta tanto lavoro dopo fino a quando si arriva alla pagina tantissimo lavoro di attività insomma pure politica di contatti la regione sbloccare sollecitare sai benissimo come funziona la pubblica amministrazione quindi io ripeto mi ritaccio sono contentissimo per quello che abbiamo realizzato fino ad adesso anzi tra poco facciamo pure il compleanno compieremo due anni di amministrazione io posso dire una cosa solo una cosa ma così in maniera oggettiva quando ho cercato di premere attraverso il direttore di lavoro perché si arrivasse alla conclusione un po' prima non era tanto per il problema l'attività se succedeva che ci pioveva una settimana 15 giorni noi saremmo rimasti senza la scuola questo è quello che vedete siamo stati pure i fortunati perché se per una quindicina di giorni ci pioveva la pavimentazione non si faceva questa era la mia preoccupazione io ho pregato per questo e meno male ma c'è il Natale proprio Natale è pronto ma anche perché se mi giro è così va bene questo è quanto questo è quello che abbiamo detto la conclusione non si vota non è altro sì sì non sono soddisfatto ma va bene così perché danno dimmi che sei soddisfatta dimmi che sei soddisfatto perché ti devo dire che sei soddisfatto no vabbè andiamo avanti perché se no ma se ne faccio stai rientro la risposta è quella formale che cosa la vera rigna è che uno mi dice che non sa che l'ufficio tecnico ha fatto un affidamento che detto non sa neanche si presa che è se mi sento di un contesto terzo andiamo avanti mi sento soddisfatta tanto però la ricchezza c'è saliente molto soddisfatto no molto soddisfatto non soddisfatto vabbè l'altro di risposta tanto è questo ce l'altro se lo puoi no ce lo rendo tranquillo allora per il terzo punto che ho avuto del giorno l'approvazione della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoria e dei servizi schermo di convenzione schermo di convenzione relazione e la relazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria allora annaggia di guadagnia no infatti ho preso quello io colgo la la palla in palco colgo la palla in palco per quello che ha detto Giuditta la festa ci aspetta oggi è giovedì c'è roppo po c'è a parte roppo po ma il giovedì ci sta la sfilata del carro di bacco e il giovedì io ho detto sempre da sempre che è la festa dei bisentini del paese perché non ci sarà tantissima gente nel primo giorno ma è una festa diciamo è una festa nostra riservata ai bambini con la sfilata del carro di pacco tra i nati e tutta la famiglia d'ostiglio che ogni anno si ripete quindi per quando allora 31-21-2024 e 31-12-2028 tra le competenze comunale vi è l'approvazione degli schemi di convenzione in questo caso praticamente uno schema di convenzione è formulato fatto dall'Agit che una volta approvato praticamente darà mandato agli uffici competenti per l'approvazione della convenzione e successivamente per la gara di procedura aperta per affidare il servizio di taserreria tutto qua grazie tutto a posto possiamo senza chi liggi questo quindi sto scherzando ma c'è la parola no 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 convengo con un vento che dobbiamo andare al carro di spazio secondo me per favore mostri con voi no no vabbè sono contento certamente allora favorevoli ma noi l'abbiamo fatta quasi ma c'è bravo ma c'è l'immediatizia questo c'è bisogno anche di votare l'immediata esecutività buona buona festa grazie mi raccomando una cosa abbiamo ospiti dappertutto non votareci però la pubblica c'è dall'Ungria ne vengono 60 chiude la seduta chiusa è sabato vi aspettiamo vi aspettiamo l'ultimo di un'acqua sentiamo la domanda scusa per me si 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 ma guarda si posso dire una cosa posso dire una cosa no 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 uno si non era e tu sono la seduta come non stai dicevo scopo ho visto le foto dei matrimoni che si fanno loro il corridoio della scuola di Pitercomune per l'inverno scusate che qui costerà una tombola riscaldare non possiamo adattarci anche noi se ci sia dato un matrimonio penso che ci possiamo adattare anche noi perché vedo che siamo 10-11 persone 12 con lui cioè per evitare uno spreco uno sperpero ancora l'avevo già proposta la risposta lo ripropongo di nuovo anche perché veniamo qua ci sentiamo anche un po' impedimenti che non c'è nessuno meno lì non ce n'è ancora cerchi a più è una mia domanda che cosa non c'è 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 ci spiega i soci firmatari della banca dove stanno visto che il piatto piange e penso che la comunità aveva bisogno di cose serie di partitate veramente di cui stiamo parlando aspetta un attimo una cosa roba scusate scusate ma io ho fatto una domanda perché non lo so capire posso la risposta su facebook come tutti posso risposta hai visto quante improperie non l'hai letta non l'hai letto i commenti giuditta già per esempio si è schierata senza sapere va bene ok io schierate beh eh sì mi sembra di sì comunque sia al di là i fatti stanno così questa pianista pianista da mesi mi dice che voleva venire a suonare bisogni la festa dell'uva io ho detto guarda la festa dell'uva secondo me non è l'occasione tanta non lo è e facciamo dopo quando c'è la festa dell'uva la prima domenica dell'ottobre la prima domenica dell'ottobre l'uno facciamo il 2 dai facciamo il 2 facciamo il 2 va bene domenica qui ci sta un mare di gente vengono i ragazzini a suonare dopo di che mi vedo tutto rigorosamente gratis lei non ci deve rimettere niente bene dopo di che mi vedo arrivare un signore in comune con un furgone dici io da qui a una settimana 15 giorni vengo devo portare un pianoforte perché il 2 si deve ok la prima cosa che mi è questo è chi paga chi paga mi hanno detto tutto gratis ma al di là di questo al di là di gratis non gratis perché tutto si può vedere non esiste non è questo il problema l'affitto di un pianoforte ma mi piazza qui in pianoforte 15 giorni prima dopo di che vengono i ragazzi chi è che ne sa ci che succede ma perché ci devo rimettere io ho detto guarda secondo me la cosa non va bene secondo me non va bene oh non mi ha chiamato più ha detto che mi ha telefonato io non rispondo non è vero non è vero non ho risposto insomma e poi ci sta non so quanti commenti mi dà del decerebrato cerebroleso insomma qualcosa di questo genere non lo so non lo so quando me l'hanno detto naturalmente cioè quando si scrive poi si risponde di questo e si scrive ho già dato in mano all'avvocato ce l'abbiamo tutti qualcuno qualche si paga per molto meno si può si può inviare si può insultare ma ci sono i limiti all'esacenza no cioè non fosse Renzo Sapotelli è un discorso ma si offende il sindaco ci sono i modi di muovo si offende il sindaco ci sono i modi di muovo di rispondere il comune di Bicenti dopo di che per fortuna di quelli nostrani ne ho vestito pochi di commenti di commentacci Luigi la guardia ma quello non mi ma se Luigi ma che ci stanno non mi interessa però non mi interessa poi chi è altro un'altra un'altra sta qua su a Colle Mar si chiama di Venezia poi altro l'ultima che ho visto l'ultimo dei commenti che ho visto uno degli ultimi ha commentato pure Luigi Dostiglio il quale benché non condivida il sindaco o non però non mi sembra abbastanza soft non posso dire che insomma si è accodato agli insulti ora per quanto riguarda quello che c'è questo è quel che vi dico che è stato per quanto riguarda poi il di qui al divenire chiaramente la signora non credo che venga almeno se ci sto io o se ci sta questa amministrazione a suonare per la comunità di Bisenti per la comunità di Bisenti lo potrà fare attraverso non lo so qualche associazione sicuramente non per il comune di Bisenti penso che ci difenderemo non solo io ma pure il comune di Bisenti e qualcuno penso che pagherà sicuramente pagherà perché dare del decerebrato capisci che voglio dire quelli sono commenti di persone sono secondo lei non c'entra niente non è che te l'ha detto lei no no chi ha commentato lei 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 ha scritto quel che ha voluto chiaramente a me poi le commenti della gente non è che mi voglio sapere la situazione perché tu hai detto qual è la situazione ti sto spiegando com'è ho detto che il giorno 2 non era il caso perché il giorno 2 il giorno dopo la festa del lua scusami ora per capirlo così al livello il giorno 2 a ottobre la festa del lua non c'è più il 2 chi ci ve chi ci ve ma perché il 2 allora è uscita fuori questa data del 2 noi ci siamo chiesti anche perché ho detto che ho detto perché per la festa del lua che non era appropriata non era l'occasione ad armi non era appropriata non lo era ma tempestato facciamolo se non facciamolo l'edì e una volta va bene l'unedì dopo di che se il Giovanni c'è una vedate che me ne frega a me questo è quello che ho pensato potevo dire no potevo dire aspetta aspettiamo un'altra occasione facciamolo per un per un altro evento per qualche altra cosa il 2 il 2 il 2 ma il 2 qui solo per dargli a Napoleto dopo che ci è venuto tutta la tutta la baladagna domenica sì però sì io sono posso condividere pienamente quello che è però queste cose io le ho lette che per il 2 andava bene cioè nelle comunicazioni ufficiali che ci sono state scusa quando lei ha chiesto la sala o con pianoforte a mezza coda perché questi i documenti ce li ha mandati se è vero non è vero per la sicurezza sono documenti non veritieri quindi si sapeva che ci voleva un pianoforte e giustamente sono d'accordo e condivido che non era l'uva festa dell'uva la come si dice l'occasione per fare una questa serata per esempio Castiglione l'ha fatto con la stessa pianista per San Donato la serata in piazza io non lo so dove l'ha fatto lei non so se l'avete visto c'è un suo commento dove come che ha tirato fuori la Minucci alla Minucci noi abbiamo dato la cittadinanza anoraria si noi mi sentiamo chi la Minucci quella scrittrice ah ok si si scrittrice quella di livello internazionale dice la Minucci che c'entra dice quella viene a Bisenti e dice declama qualche verso io sono un artista a un certo livello non si comporta così ma si è un artista ma che per favore poi guarda non lo so quanti cultori del pianoforte ci sta a Bisenti io ammetto la mia ignoranza e l'ammetto ma non lo so che resta è che sarebbe stato ammesso il concesso di cultori non volto ammesso il concesso cultori non cultori io trovo un po' fuori luogo tutti questi commenti vabbè i commenti arrivano da ogni dono i commenti i social sono i social i social sono i positivi quando diventano delle tecniche negativi quando c'è qualcosa che a volte lo superano loro stessi ho capito ma lì non è che non si risale a chi ha scritto quindi si risale a questo non conosciamo chi è commentato qui permette sarà querelato sicuramente quando lì dove ci saranno gli estremi ti vorrei portare gli stiaffoni sì sì qualche macrovescio dicevi va beh ci sono state delle cose veramente tendi per un macrovescio non non però però il web i social sono questi oggi se non si dice le malparole le cose io sono sempre per un linguaggio soft e soprattutto cordiale ma ma è possibile che uno commenta una cosa senza conoscere perché di fatto c'è la descrizione di un soggetto e dice la sua no diceva se fosse stato un contraddittorio tra uno e l'altro poi valutiamo come stanno le cose mi sta bene ma così uno scrive dice guarda ho incontrato il sindaco di Rocca Canoccia mi ha mandato a far gola se è è uno stronzo ma se non è se non è come fai tu a dire via la 90 è stata una cosa